sto guidando un'auto della polizia noi siamo la polizia 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 dove siete ladri aspettiamoli qui sì aspettiamoli qui, ufficiale polizia io sono un poliziotto salve agente salve agente vuole mangiare qualcosa? sì, vorrei mangiare delle ciambelle ok, prenderò le ciambelle sono le migliori della città ho preso le ciambelle agente sembrano buonissime sediamoci lì agente ok penso che saranno davvero buone alla salute agente cin cin andiamo a mangiare qualcosa? sì, facciamo forza ehi, guarda la polizia andiamo a vedere sì, andiamo forza ehi, due agenti di polizia prendiamo le ciambelle buona idea è buono il cioccolato aspetta guarda lì altre ciambelle mi piace così tanto il cioccolato scendiamo qui molto bene tu vai di là vado lì ok ottimo ah sì, ottimo siamo troppo grandi ehi, la nostra macchina qualcuno la sta prendendo ehi, ehi, ehi la polizia che cosa? forza, forza è ora di andare hanno preso la macchina hanno preso la macchina non ci credo hanno preso la macchina hanno preso la nostra macchina sì, ce l'abbiamo fatta ottimo lavoro, fratello sì dobbiamo trovarli e prenderli ma come facciamo? ok, sai cosa? ne andremo a cercare andiamo da questa parte ok, andiamo dobbiamo sbrigarci li prenderemo ne sono sicuro li prenderemo sì, li prenderemo forza, forza di qua, di qua li prenderemo ne sono sicuro questo è un bel posto sì, niente polizia qui e abbiamo le ciambelle dove sono, cavolo? sono laggiù guarda oh, eccoli andiamo forza, corriamo ne prenderemo ne sono sicuro forza, corriamo corriamo fermo, fermo, fermo c'è la macchina della polizia esatto andiamo a prenderla facciamo silenzio però tu vai da questa parte e tu vai da quella ok, forza sei pronto? sì, e tu lo sei? sempre come te allora prendiamoli uno, due, tre oh no, adesso andrà in prigione oh no, vieni qui oh no, lassami ti prego l'ho preso e adesso tu salirai in macchina e chiaro sali lì dentro salici, ok? e anche tu sali lì dentro forza ecco fatto andrete in prigione chiaro? oh no ci hanno preso no, no, no non ci credo bene agente ottimo lavoro e adesso portiamoli in prigione forza sì ce l'abbiamo fatta sì sì li abbiamo presi ciao